Sono quasi 300 le firme dei cittadini raccolte in sole due ore davanti a Palazzo Gabuccini nel centro storico di Fano. È iniziata questa mattina, infatti è la battaglia di quattro liste civiche fanesi, la tua Fano, possibile, bene comune e Fano a 5 stelle, per dire no all'ospedale unico e sì alla riqualificazione delle strutture ospedaliere esistenti. In fila anche voi per firmare, quindi no all'ospedale unico? No, no all'ospedale, il nostro ospedale vogliamo noi. Quindi che vengano potenziati i servizi già esistenti? Sì, potenziati i servizi che ci sono già, ma già vanno bene che così, vanno bene, dai, non ci lamentiamo. Lei invece che cosa pensa della sanità? Io ritengo che Fano, una città di 70.000 abitanti, abbia diretto ad avere una sanità che funzioni, quindi se abbiamo un ospedale cerchiamo di mantenerlo, di difenderlo. Quindi i cittadini insieme possono fare la differenza? Io spero che ci sia anche la volontà da parte dei politici, insomma, di fare la differenza, di garantire comunque un servizio. La sanità è una cosa estremamente importante, è una delle prime cose che dobbiamo garantire a noi, vecchietti, ma anche ai nostri figli e ai nostri nipoti. L'iniziativa ha riscosso un grande successo fin dalla presentazione del referendum, infatti la pagina Facebook aperta dalle forze politiche, intitolata Io firmo per la salute, ha già avuto 1.300 adesioni. Siete qui da pochi minuti e già avete raccolto decine di firme? Sì, guarda, sono molto soddisfatta perché i cittadini stanno rispondendo proprio alla grande. Comunque la forza di questo referendum è proprio contare sulla cittadinanza, visto che tanto la Giunta non ci sente. Quindi, insomma, si chiede una sanità efficiente? Sì, una sanità efficiente, non privatizzata e accessibile a tutti. Per richiedere il referendum comunale dovranno essere raccolte 2.600 firme, cioè un numero pari a un decimo dei cittadini fanisi che abbiano compiuto 18 anni di età al primo gennaio. Non ho capito perché dobbiamo andare all'ospedale di Pesaro. Quando abbiamo tanto bene Fano, che è bello, nuovo, ancora non si è capito il motivo per il quale bisogna fare questo spostamento. Lei immagino sia di Fano. I cittadini fanno la differenza, perché l'unione fa la forza, siamo in tanti. Anche perché poi l'ospedale che verrà nuovo, ci verranno tantissimi anni, quindi andiamo avanti, facciamo questa spolla. Fano-Pesaro, non vedo il motivo, perché è sempre stato funzionale il nostro ospedale, anzi, diciamo, venivano da fuori per venire qua da noi a Fano. I prossimi banchetti, fino al 30 aprile, verranno organizzati sempre in corso Matteotti ogni mercoledì e sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, mentre la domenica solo di pomeriggio, dalle 16 alle ore 19. Viste le prime ore di questa raccolta firme, credetevi poter arrivare alle 2006? 2006 entro la giornata o entro la settimana, perché facendo così siamo già a 60 i primi 10 minuti, penso di superare la grande. Forse dopo tanto tempo la gente inizia davvero a unirsi indipendentemente dal colore politico? Certo, beh, la cosa principale è quella, è fare gente, gente che si informa, che comincia a capire, che comincia a comprendere che è qualcosa di suo, che rischia di perdere. Sicuramente se proprio non sono sciocchi è giusto anche che si muovano e lo stanno facendo. Anche lei con la sua carta d'identità in mano è pronto a firmare? Sì, mi trovavo di passaggio, ho visto la situazione e mi sono fermato a firmare. Come mai questa scelta? Anche lei vuole tutelare il diritto alla salute? Il nostro ospedale, sì, per forza, qui ci vogliono mandare tutti via. Che rimanga a Fano con tutti i servizi adeguati? Almeno con i servizi essenziali, almeno, con i servizi prioritari. Anche lei cerca di sostenere questa battaglia? Certo, perché con i soldi dei contribuenti hanno ampliato, hanno modificato, hanno fatto tutto quello che volevano. Se doveva chiudere, perché hanno speso tutti questi soldi? Questa è una mia opinione. In più, una cittadina come fa? No, dobbiamo rimanere senza ospedale. Perché? Perché dobbiamo andare a pesa? Io non ho capito il motivo. Per molte persone poi può essere anche difficoltoso raggiungere un'altra città. Una persona anziana come fa? È un caos. È il caos proprio. Perché queste persone anziane così come fanno? Devono prendere l'autombulanza? Non si gestiscono. Qui sono due passi. E poi tutto l'entourage?